...la sua dagli strumenti... How many things do you do? A lot! Mucho! Mucho, bravo eh! Non cerca di parlare italiano! Però adesso si avvicina con la sbagliosa Dunque dovrete sapere che quando era studente a liceo Lui era campione di box e ha vinto su 36 punti in erediti 25 per knock-up